Samuele, lo possiamo dire, oggi a Petrignano è stato vero ciclocross, sembrava di stare in Belgio. Beh, sì, a parte il percorso è stata una gara molto dura dall'inizio e vedremo come vanno le prossime gare. Samuele, naturalmente tu sei il campione italiano, però è bello indossare la maglia di campione della tua regione, l'Umbria. Beh, dai, avere un tricolore addosso è una cosa molto importante e molto importante a difenderla e soprattutto è un'emozione grande. Che tipo di percorso era? Raccontiamolo. Beh, era un percorso con abbastanza curve e con questo fango era molto più tecnico, dovevi guidare molto fluido, se no rischiavi di cadere, però dai, un percorso così è molto bello. Naturalmente è una stagione che sta andando benissimo e il meglio deve ancora venire. Beh, sì, sì, dai, adesso vedremo le prossime gare, però punterò per vincere ancora il tricolore, però vedremo come sono le gambe e vedremo come va. La dedica per la vittoria di oggi? Beh, dai, la dedico alla mia ragazza che è venuta a vedermi, alla mamma e alla squadra. Grazie. 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 Grazie.